Buon pomeriggio cari telespettatori, benvenuti a questo nostro appuntamento con l'approfondimento del giorno che precede il nostro telegiornale dell'ora di pranzo. Allora vi presento subito i nostri ospiti di quest'oggi, sono Fabio Canidisek della FIM CISL, buongiorno, e Marco Relli della FIOM CGL. Buongiorno, grazie di essere qui, immaginerete qual è il tema in discussione, questa mattina FIM, FIOM e Wilm, CGL e CISL e Wilm hanno avuto un incontro per parlare, per fare il punto proprio sulla crisi Varsila. Allora, che cosa vi siete detti intanto e da cosa siete partiti? Comincio con Fabio Canidisek. Innanzitutto, per contraddistinguere quella è stata un po' la tipologia di lotta che abbiamo messo in campo, abbiamo pensato di fare le cose anche questa volta bene, nella legalità, nell'ordine, nello spiegare alle persone. Quindi tutto questo comporta un impegno maggiore dal punto di vista organizzativo. Quindi era necessario fare oggi un primo incontro, abbiamo poi al termine programmato già la seconda fase per mercoledì, quindi una cosa abbastanza pressante perché vogliamo dare una risposta rispetto alle nostre esigenze e alle nostre idee per il futuro di Trieste. Ecco, quindi state organizzando una grande manifestazione, ci saranno anche presenze nazionali? Esattamente, sono previste, adesso dobbiamo solo definire e capire esattamente la data che era stata ipotizzata il 3 settembre, adesso vediamo se magari non sarà così o sarà il 10 e sono previsti i segretari nazionali perché qua stiamo parlando di un'avvertenza che non può essere risolta a livello locale ovviamente, come già fatto il Ministero, dobbiamo continuare con un discorso che sia di carattere nazionale perché la Varsila non è esclusivamente un problema territoriale che è gravissimo per quanto ci riguarda, ma è un problema nazionale proprio nella navale meccanica tutta. E questo è il segnale forte che volete dare proprio a livello nazionale? Sì, perché fin dall'inizio noi abbiamo detto che il problema immediato è Varsila e i suoi lavoratori, quindi l'occupazione, quello è l'immediato, il primo, quello che fa anche più tremare il cuore, fa pensare, però dietro c'è un problema ancora più grosso che è quello del futuro industriale di questa città, che significa anche il futuro di questa città, perché è impensabile che non ci sia un equilibrio tra le varie attività economiche di una città, una città non può rimanere in piedi, essere attiva, essere attrattiva e avere un futuro se si appoggia solo a un settore, non c'è più quello primario ormai di agricoltura triese, quella perdita di tutti i territori che stavano attorno, è chiaro che è stata molto limitata, non può rimanere solo col terziario, ci vuole anche la parte industriale, altrimenti non c'è un futuro per i nostri giovani. Ecco, voi sindacati avete sollevato anche la problematica delle relazioni sindacali proprio, da parte dell'azienda e questa è stata la vostra mossa, l'ultima mossa di cui abbiamo dato notizia? No, noi abbiamo fatto degli approfondimenti con gli avvocati, proprio per il modus operandi che ha avuto l'azienda, fino al 2021 in poi, perché negli anni passati le relazioni sindacali e le comunicazioni erano sempre state in linea con quelli che sono il contatto nazionale, le regole di base. Da un certo punto, un certo momento in poi l'azienda ha cominciato in questo senso ad essere molto altalenante, tante volte assente, a rimandare gli incontri e poi non essere chiara nelle spiegazioni, anche se aveva sempre confermato 2022, parte del 2023 assolutamente sul lato produttivo, anzi addirittura voleva assumere del personale, quindi è stato questo che chiaramente nei confronti del sindacato non è stato un comportamento assolutamente corretto e quindi fuori dalle regole che sono regole di contratto nazionali e anche europee, per cui adesso vediamo il giudice come si esprimerà rispetto a quello che noi abbiamo posto come problematica. E ancora in ballo, si voleva aggiungere qualcosa che mi diceva su questo? Perché poi, col senno di poi, però è da sottolineare, la CISL era da gennaio che denunciava che in Varsila c'è qualche problema di prospettiva futura, c'è un problema di lavoro, c'è un problema quindi industriale e c'è un problema di come l'azienda volesse affrontare questo. Il punto è che non solo ci sono state poche relazioni industriali, ma è che anche al tavolo con la regione l'8 marzo, Varsila, Italia, ha negato che ci sia un problema e a luglio, ai primi di luglio il ministro Giorgetti che rappresenta lo Stato italiano, che rappresenta tutti noi, è stato preso in giro in Finlandia dal gruppo dirigente di questa azienda. Allora, è un problema più grosso di quello che può sembrare, perché le relazioni internazionali e il nostro Paese sono state prese in giro da un'azienda di uno Stato che abbiamo appena accolto dalla Nato. È chiaro che non è che per questo motivo non entrasse la Finlandia nella Nato, questo è ovvio, però noi accogliamo tutti, accogliamo anche quelli che prendono in giro il nostro governo, quindi tutti noi. C'è stato anche il passaggio in questa estate particolare in cui la bomba di Varsila è esplosa, c'è stato anche il passaggio della storia dei motori, di Daewoo, avete avuto anche questo incontro in prefettura, si è risolto con un di fatto, ne abbiamo dato notizie anche noi. Noi abbiamo partecipato all'incontro esclusivamente per rispetto delle istituzioni e della prefettura, in verità noi non avremmo neanche dovuto interloquire con la Daewoo, noi non siamo coinvolti. assolutamente no, la Varsila e la Daewoo hanno un contratto ben preciso, commerciale, fra committenza e fornitore, noi assolutamente in questo senso abbiamo voluto chiaramente presenziare su richiesta della prefettura, l'amministratore delegato della Daewoo, prima ci ha raccontato un po', ci ha spiegato quale fosse la valenza e l'importanza della fornitore di quei motori che noi possiamo anche assolutamente capire. Il fatto è che poi nel finale ha voluto citare qualcosa come proprietà privata, come una sorta di esproprio, non abbiamo accettato più di interloquire, abbiamo ascoltato le parole dell'assessore Rosolaine che era in collegamento, che chiaramente ha detto proprio a Daewoo, guardate se questo discorso rispetto ai sindacati non esiste, non avete assolutamente nessun diritto di andare a interloquire, anzi apporre dei problemi ai sindacati che fanno un altro discorso. L'interlocutore è l'azienda, la multinazionale. Il presidio davanti ai cancelli della Varsila continua? Continua giorno e notte? Ancora su turni? No, no, assolutamente il presidio continua, è sempre attivo anche con partecipazione numerosa e soprattutto convinta, almeno da un certo punto di vista, parlavo con dei lavoratori proprio sabato notte che ho fatto il turno, perché in ogni turno abbiamo un responsabile sindacale in modo tale da non lasciare nessuno senza copertura, quindi oltre ai lavoratori che c'è sempre un rappresentante sindacale di Finfion Will, ma dicevo la cosa bella da questo punto di vista che c'è stata è che le persone che all'interno lavorano non si conoscono, perché è come un paese di mille anime, non tutti si conoscono, mentre là hanno condiviso idee, problemi familiari tra persone che magari per ruolo il magazziniere con l'ingegnere, di solito non interloquiscono, per modalità di lavoro diverse, invece le hanno, quindi io sottolineo il presidio, almeno da questo punto di vista ha avuto un bel risultato, poi anche dal punto di vista politico tiene alta l'attenzione, anche grazie ai mass media, le persone che quotidianamente vengono a visitarlo, non solo i politici ma anche ancora più gradite, le semplici persone che vengono a portare a solidarietà, ma poi c'è bisogno di qualcos'altro, quindi bisogna che adesso la politica batta un colpo, perché altrimenti lo solo sforzo dei lavoratori, delle lavoratrici che sono là, che manifestano, che faremo le manifestazioni, non basta, questo serve per tenere alta l'attenzione e dire alla politica che deve battere un colpo, perché questo paese che è stato preso in giro dalla Finlandia deve avere il coraggio e la forza di dimostrare di avere una classe dirigente, una classe dirigente che deve fare proposte, fino ad oggi, e concludo questo breve intervento, la politica è stata vicina fino a un certo punto, grandi solidarietà, però la regione, che è quella più presente, è presente con l'assessore del lavoro, bravissima, niente da dire, vicina ai problemi, al pezzo, guarda anche in prospettiva, ma serve anche qualcosa in più, serve lo sviluppo economico di questa regione, quindi noi chiederemo che adesso sempre più la giunta regionale, il Presidente regionale intervenga col Ministro Giorgetti, perché qualche soluzione bisogna portarla al tavolo. Bisogna portarla al tavolo in un periodo che è anche aggravato dal fatto che il governo è caduto e si va verso le elezioni, quindi siamo proprio nel pieno di una campagna elettorale estiva, inusuale, anche abbastanza particolare, diciamo così. Diciamo che si sono fatti consigliare molto bene i vertici di Varsila per scegliere il periodo, è il momento giusto, perché hanno tutto un loro staff in Italia che li consiglia, infatti questo è stato proprio il momento peggiore, più difficile per poi andare ad affrontare il problema, sta di fatto che comunque non è che Giorgetti in questo momento rimane in capo per le questioni in essere, non è che si mettono a fare nuove leggi, però le questioni in essere rimane in capo, quindi c'è tutta la possibilità perché a prescindere dal fatto che poi si va dalle elezioni o meno, lo Stato italiano è lo Stato italiano, a prescindere dal governo che ci sia, quindi noi siamo la Repubblica Italiana, siamo la settima potenza al mondo, industrialmente parlando, è manifatturiero, siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa la Finlandia con tutto il rispetto ha avuto un atteggiamento rispetto all'Italia che secondo me non doveva permettersi e l'orgoglio nazionale deve farsi sentire in questo senso e oltretutto poi escogitare qualunque altra strategia per fare in maniera che quel sito assolutamente rimanga industriale, prosegue industriale e magari incrementi anche. L'industria per quanto riguarda sia la navalmeccanica o a prescindere da questo un intervento, noi abbiamo le potenzialità nazionali come Fincantieri, come Leonardo, abbiamo delle strutture tecniche che possono mettersi in campo in questo senso qua, noi non possiamo permetterci né a livello italiano o tanto meno a livello triestino di perdere questa industria perché sarebbe credo la fine ormai del discorso industriale triestino con tutto ciò che comporta che abbiamo già ribadito più volte. Quindi oltre a organizzare tutte le azioni dal punto di vista della difesa dei posti di lavoro state ragionando anche ovviamente su eventuali piani B, C eccetera per mantenere proprio lo stabilimento produttivo qui a Trieste. La nostra battaglia è quella sempre ferma al piano A che l'azienda deve ritirare la procedura, se si ritira la procedura si possono fare con più facilità tutti gli altri ragionamenti, è chiaro che però piano A o piano B se non c'è un intervento forte delle istituzioni pubbliche che non devono sostituirsi agli imprenditori ma devono accompagnare gli imprenditori nella reindustrializzazione del sito, quindi bisogna che tutti facciano la loro parte in questo momento altrimenti come al solito i lavoratori saranno soli e credo che la gente non capirebbe un ritiro della politica da questa avvertenza. Da questa avvertenza, nonostante insomma il periodo caotico che stiamo vivendo. Soprattutto gli annunci sono stati molto importanti, molto forti da parte della politica e anche di Confindustria, quindi noi ci auguriamo che da questo siano anche conseguenti nelle azioni. Ce li auguriamo tutti, allora questa grande manifestazione per tornare proprio all'incontro di oggi, ci sarà un prossimo passaggio mercoledì, se ho capito bene, quindi per una definizione insomma proprio delle date e per avere le disponibilità dei segretari nazionali per essere presenti proprio qui a Trieste anche a livello simbolico, forte insomma. Moduleremo poi quella che sarà l'iniziativa a seconda anche delle ultime novità perché sappiamo che la famosa nave, quella famosa nave che dovrebbe imbarcare i motori, sembra si sia mossa. Dove va? Viene a Trieste? Per che motivo? Quindi attendiamo anche questo. Queste sono le ultime notizie. Queste sono le notizie fresche fresche. È chiaro che anche... Dove si trovava? Si trovava in Marocco mi sembra. Si trovava in Marocco, si è mossa, ci vogliono un 4-5 giorni per arrivare su. Viene a Trieste? Viene dirottata da un'altra parte? Noi vigileremo, però. E eviteremo informati. E ci terrete sicuramente informati. Perché non dovremo essere abbandonati soli a fermare i motori. O c'è la città per mantenere tutto all'interno della legalità o ci sono problemi. Io credo che dobbiamo fare sforzo come sindacati confederali di mantenere tutto all'interno della legalità. Della legalità, insomma di quelle che sono le possibilità di uno Stato democratico, che lo Stato democratico offre. Allora, grazie. Grazie a Fabio Canidis e a Marco Relli per essere stati con noi. Grazie a voi. E torneremo sicuramente a invitarli ai nostri approfondimenti e seguiremo anche noi di Telequattro naturalmente sempre, come sempre facciamo, la vicenda a Varsila. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, subito dopo c'è il nostro telegiornale. Grazie a voi. Grazie. Buon pomeriggio dal telegiornale. Editelequattro muore a 15 anni, travolto da un'auto condotta da una giovane militare americana, poi arrestata. La tragedia è accaduta a Porcia la notte tra sabato e domenica. Nella zona dei Lampioni erano stati spenti per risparmio energetico. Allora vediamo il servizio di Nicola Zanetti della redazione del Veneto. La chiacchierata con i due amici sulla ciclabile in una notte di agosto resa più buia dallo spegnimento per risparmio energetico dei Lampioni in zona, poi improvvisamente i fari di un'auto che non dovrebbe trovarsi lì su quella pista ciclabile. Una vettura con alla guida una ventenne americana, militari, in servizio alla base di Aviano, schizzata addosso ai tre ragazzi come un proiettile per aver sbandato vistosamente dopo una rotatoria. Giovanni Zanier, 15 anni, di Pordenone, viene centrato in pieno e sbalzato di 10 metri mentre la sua bici resta lì, davanti agli amici illesi, sotto shock. La tragedia di Porcia si consuma in pochi istanti nel quartiere di Sant'Antonio alle 2.30 di notte e a nulla purtroppo valgono i soccorsi dei sanitari per il povero quindicenne. Lei, la soldatessa ventenne fuori di sé, viene arrestata per omicidio stradale su disposizione della procura di Pordenone in base agli accertamenti dei carabinieri. La dinamica è in fase di ricostruzione per accertare anche quanto fosse grave lo stato di alterazione della ragazza, ma anche per capire se la mancanza di luce in quel tratto possa aver influito sulla dinamica. Assenza di illuminazione confermata dal sindaco di Porcia è decisa, spiega, dopo aver ponderato con attenzione ogni rischio. Mesi addietro, quando il tema era quello del forte aumento dei costi dell'energia, l'amministrazione dello Stato ha chiesto ai comuni di contenere la spesa. Noi siamo intervenuti attraverso la chiusura della luce pubblica per cercare di contenere nel corso dei mesi quella che sembrava essere un forte dispegno energetico. Ovviamente lo abbiamo fatto, ci tengo a sottolinearlo, nel rispetto di tutte le norme, anche quelle del coice della strada. Quindi prima di farlo sono stati fatti degli approfondimenti. Una scelta comune a tanti altri sindaci in questo periodo, quella di spegnere l'illuminazione pubblica in alcune zone del territorio dopo le due di notte. Quest'anno, spiega Sartini, abbiamo stimato un aumento di spesa energetica di ben 415 mila euro. Se non avessi deciso per il risparmio sarebbe stato impossibile coprire quei costi. Primo cittadino che in ogni caso, pur in attesa della dinamica, si dice convinto che ben poco tale scelta abbia influito sul dramma. Perché non è in sé, noi possiamo mettere tutte le luci che vogliamo, ma se chi è alla guida non rispetta le norme del codice o perde il controllo per un malore, non sono le luci che determinano un incidente. Tra l'altro prima di mettersi in rotonda ci sono i cordoli in cemento che cercano sempre di portare il traffico ad una velocità più bassa per approcciare la rotonda. Tutte le misure di sicurezza stradali possibili sono state fatte e ciò non toglie che gli incidenti accadono e questa notte è accaduto uno tragico. Resta il dolore per la vita di un quindicenne spezzata per sempre, un dolore che accomuna Porcia ai vertici della base USA di Aviano. Il cordoglio mio personale dell'amministratore che rappresento è massimo nei confronti dei genitori del ragazzo che ha avuto questa triste disgrazia. Il comandante generale della base questa mattina mi ha comunicato con un messaggio anche il cordoglio suo personale per quanto è accaduto. Una notizia di cronaca che arriva dall'Abruzzo che vede coinvolto un ventenne triestino. Il giovane si trovava alla guida di una Fiat Panda quando due motociclisti in sella ad una Yamaha 500 avrebbero centrato il mezzo a quattro ruote. È successo a Rocca di San Giovanni di Chieti. Due motociclisti abruzzesi si trovano ora ricoverati in gravi condizioni dopo l'incidente in cui è stato coinvolto anche il ventenne triestino. Come riporta Chieti Today il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri 21 agosto lungo la strada nazionale adriatica Rocca San Giovanni. La coppia, lui di Pescara, 55 anni, le quarantenne di Rosciano, viaggiava a bordo di una Yamaha 500 mentre il giovane originario del capoluogo Giuliano si trovava alla guida di una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortone, i soccorritori del 118, quelle di soccorso ai vigili del fuoco e due centauri in sella alla moto sono stati sbalzati dal mezzo dopo il violento impatto. La donna è in ospedale a Pescara, l'uomo è stato inizialmente portato a Chieti e poi a Pescara a causa di un aggravamento delle condizioni. Entrambi i mezzi procedevano lungo la strada statale 16. Questa è la notizia che ha visto coinvolto anche un triestino. Un trapianto da record dell'intero blocco cuore e polmoni ha salvato la vita di una 19enne barese, un'operazione compiuta a Torino. Gli organi sono stati donati da una giovane triestina. Vediamo. Sarebbero appartenuti a una ragazza triestina il cuore e i polmoni che sono stati trapiantati da Aurora, la 19enne pugliese affetta da una rara e letale malattia. Una storia lieto fine per la giovane in pericolo di vita grazie a un trapianto record multiplo effettuato in ECMO, ovvero con la paziente tenuta in vita da una macchina per la circolazione extracorporea. Aurora, originaria di Bari, è affetta da ipertensione polmonare primitiva. Dalla prima diagnosi a maggio le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, tanto che l'unica speranza era il trapianto. viene quindi trasportata con un volo speciale dell'aeronautica militare al centro trapianti cuore polmone di Torino e dopo cinque giorni arriva la chiamata da Trieste, dove accorre l'equipe piemontese per il prelievo per consentire il trapianto, eseguito poi in una complessa operazione di ben 12 ore. La ragazza inizierà ora un lungo percorso di riabilitazione perché gli altri organi sono stati a lungo in sofferenza e necessitano un recupero completo. Un intervento senza precedenti portato a termine grazie a una donazione da Trieste. Torna all'approfondimento politico di Ring in vista delle elezioni politiche del 25 settembre a partire da questa settimana. Doppio appuntamento in diretta alle 21, sempre il giovedì e il venerdì. Vediamo. Ci ritroviamo in piena estate ad affrontare una nuova campagna elettorale e noi ci siamo. Vi aspettiamo a partire dal 25 agosto. Il Ring è pronto. Dalla crisi di governo siamo precipitati in una campagna elettorale sotto l'ombrellone senza esclusione di colpi e allora nonostante la calura agostana Ferdinando Avarino è pronto a seguire passo dopo passo ogni sviluppo, ogni polemica, ogni scambio di fioretto o spada che sia tra i contendenti di questa tornata elettorale che porterà gli italiani al voto il 25 settembre. I combattenti della politica tornano a sfidarsi rigorosamente in diretta a partire da giovedì 25 agosto. Come sempre doppio appuntamento sul canale 10 del Digitale Terrestre il giovedì e il venerdì alle 21. Tutte le liste in lizza rappresentate nei nostri studi per capire, approfondire e sviscerare le proposte di quanti si candidano a guidare il paese in un momento di particolare difficoltà nazionale e internazionale. I protagonisti al naturale senza filtri né censure da questa settimana tornano nel salotto televisivo che ormai da anni segna il dibattito politico in Friuli Venezia Giulia. Vi aspettiamo giovedì e venerdì come sempre alle 21 dal 25 agosto. E a presentarsi alle elezioni del 25 settembre ci sarà anche la lista vita riconducibile ai movimenti no green pass e quelli contro il 5G e a difesa della Costituzione. Oggi abbiamo sentito il consigliere comunale del Movimento 3V Marco Bertali che è esponente di vita nel collegio di Trieste. Movimento 3V, no paura dei, sentinelle della Costituzione e alleanza italiana Stop 5G. Queste le liste che hanno dato vita a una candidatura unitaria sotto il nome e il simbolo di vita, lista che si presenta alle elezioni del 25 settembre. I proponenti riconducibili fra gli altri a nomi come la deputata Sara Cuniale e il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari hanno depositato le firme e in attesa della validazione delle stesse e quindi l'ufficialità della corsa al Parlamento sono pronti a farsi sentire. Nella lista del Collegio Triestino figura Marco Bertali, attuale consigliere comunale del Movimento 3V che ha presentato le intenzioni di vita. Questo nome vita appunto per riprendere in mano la vita nella sua naturalità, quindi anche tutto il discorso della tutela dei diritti costituzionali che sono stati calpestati dal nostro punto di vista evidentemente in questo periodo di cosiddetta sindemia e per come in aggiunta è stata affrontata la questione della guerra in Ucraina. Questo ha fatto vedere in maniera chiara come ci sia un asservimento dell'Italia alla Nato e quindi uno dei nostri proponimenti è quello di mettere in discussione l'uscita della Nato, l'uscita anche dall'Euro e la revisione completa di questa Unione Europea e eventualmente anche l'uscita dall'Unione Europea. Dall'altra parte abbiamo tutta una serie di progetti che riguardano le piccole imprese con la tutela appunto di quelle che sono le piccole e le medie imprese in Italia contrastando quelle che sono le logiche delle lobby finanziarie che sono state evidenziate in maniera chiara per quanto concerne la questione dei farmaci, dei vaccini ma che riguardano in realtà quello che è il dominio del mondo che mira a un discorso di biopolitica e di controllo dei cittadini mettendo quindi in discussione anche quelle che sono, come si diceva prima, le verità esistenziali che ognuno di noi dovrebbe tutelare. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città siamo al telefono con il commissario Fulvio Degrassi, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora qual è la situazione in questo momento del traffico cittadino e poi se ci sono delle segnalazioni? La situazione al momento è tranquilla, sostanzialmente è stata una giornata abbastanza, chiamiamola, incruenta per quanto ci riguarda almeno come sinistrosità stradale o d'altro traffico comunque, da quanto ho potuto notare personalmente, è abbastanza in incremento passato faragosto ci stiamo avvicinando pian pianino al regime solito devo ricordare che la via Crispi è chiusa dalla Carducci fino alla via del Toro per qualche tempo, sempre per dei lavori a Cegas perciò attenzione, non si riesce dalla Carducci a fallire la via Crispi e questa mattina, forse non so se ne avete parlato se ne avete notato, qualcuno ne ha notato personalmente avevamo diverse postazioni semaforiche in tilt ci sono voluti i ripristini di parte dei tecnici durata abbastanza in varie postazioni della città abbastanza random spot per il resto, per fortuna, nessun incidente con esiti gravi come ho già detto altre cose in agenda non abbiamo di particolari perciò vi restituirei la linea comunque è stata risolta la problematica dei semafori grazie, grazie allora al commissario aggiunto Fulvio De Grassi buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi grazie a tutti noi ora parliamo di cultura e di arte ospite ieri a Sveglia Trieste e l'assessore comunale alla cultura e turismo Giorgio Rossi ha anticipato alcuni degli eventi espositivi e dei progetti che caratterizzeranno il 2023 sentiamo e cominceremo con una mostra in quello che è il periodo diciamo così invernale che sarà la mostra dei macchiaioli che succede a quella di Monet al Museo Revoltella e tutta una serie di altre mostre che faremo in sale espositiva al magazzino 26 lo annunciamo forse per la prima volta che abbiamo tre sale espositive che andremo a riqualificare in termini così di dare tutte le tecnologie necessarie per esporre al meglio che attraverso una delibera che abbiamo fatto circa un mese fa dedicheremo a Natan dedicheremo a Sbisà e dedicheremo alle Norfini chiusa proprio ieri al Salone degli Incanti la mostra su Frida Calo l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi anticipa i prossimi appuntamenti in programma per il 2023 a cominciare dalla mostra sui macchiaioli dopo il successo degli impressionisti al Museo Revoltella e per il terzo polo espositivo quello del magazzino 26 Rossi pensa all'omaggio ai tre grandi protagonisti della pittura triestina della prima metà del Novecento Arturo Nathan, Leon Orfini e Carlos Bisà quindi a tre grandi personaggi che sono legati in quello che è stato un periodo del Novecento in cui addirittura avevano uno studio comune alla Rotonda Pansera che hanno fatto poi delle mostre periodi magari di età diversa in cui questi tre grandi artisti triestini hanno lavorato ma che li accomuna da quello che è stato un indirizzo assolutamente nuovo nella prima metà del Novecento e quindi queste tre sale espositive diciamo saliranno di livello adesso noi in queste tre sale abbiamo sperimentato ed accolto mostre fotografiche mostre di carnevale mostre e altre mostre di un certo livello credo che il livello e la qualità adesso sarà elevata perché il Porto Vecchio è uno dei punti sui quali noi vogliamo fare questo rilancio che non è solo un rilancio urbanistico ma soprattutto fa sì che il magazzino 26 diventi veramente quel centro di gravità permanente e culturale come lo chiamo io che darà il via poi a questo processo di grande rilancio e trasformazione con la redazione del Museo del Mare Siamo allo sport il punto della situazione in casa a Pallacanestro Trieste dopo il completamento del roster l'avvio della preparazione ora la fase di ritiro in Slovenia a Lasco vediamo Mai così atletici e spumeggianti sul perimetro nel quintetto base il trio Davis Junior Gaines e Bartley è una scelta nuova per la Pallacanestro Trieste che propone agli ordini di Marco Legovic tre esterni americani che combinano velocità atletismo gambe e braccia giuste per difendere e buona tecnica insomma l'idea della squadra da corsa che possa ribaltare in pochissimi secondi la situazione difensiva in un contropiede o comunque in un possesso offensivo efficace ha chiaramente preso forma con il completamento del roster la trama di mercato ha avuto la sua svolta con l'acquisto di Frank Gaines canoniere del campionato con Cantuna il 2019 su quale il presidente Mario Ghiacci ha fatto una mossa inaspettata quanto prospettica scegliere il miglior giocatore possibile indipendentemente dal fatto che non si trattasse di un'ala piccola come i canoni stretti della spicchia avrebbero voluto una scommessa affiancare nello stesso roster due guardie di talento Gaines capace di metterne 43 in una celebre partita con Sassari Bartley pur meno noto in Italia ma giocatore di tutto rispetto preso in una fascia di mercato i cui i biancorossi non pensavano di poter operare nel quintetto oltre al folletto Davis anch'esso uno stantuffo mai d'uomo su ambole metacampo c'è AJ Baker investimento che ricaica il progetto Grazulis ottimi in A2 in cerca di conferme al massimo livello e l'acquisto con biennale del californiano Phil Wayne lungo atletico di 206 cm che cerca un ulteriore step di progressione di carriere in Europa dopo l'approdo l'anno scorso in Germania dietro una pattuglia di italiani che cercano conferme la 1 per Bossi un ruolo sempre più decisivo per Mastrangelo più minuti e solidità per De Angeli continuità per entrare nel giro dei lunghi italiani che contano per Lever e un marchio da fighter da confermare per Vildera la squadra all'opera Lasco senza ancora Fein e Gaines venerdì si confronterà con la formazione locale poi la lunga serie di amichevoli per presentarsi al pubblico e pallacanestro Trieste comunica di aver aggregato agli allenamenti della prima squadra già a partire dal ritiro delle strutture di Termana a Lasco il centro croato classe 1990 Alexander Marzius tesserato per la Stella Azzurra di Roma Alexander ha disputato l'ultima stagione regolare mettendo a referto 12 punti e 9 rimbalzi di media in chiusura uno sguardo al tempo al sito dell'Osmer Arpa regionale vediamo la situazione generale sulla regione da questa sera fino al pomeriggio di martedì affluirà aria umida in quota proveniente da nord-est convogliata da una depressione in movimento dai Balcani verso l'Italia meridionale per oggi si prevede su tutta la regione cielo in genere poco nuvoloso al mattino variabile dal pomeriggio con venti di brezza sulla fascia orientale possibile qualche maggiore annuvolamento e non si esclude qualche rovescio nel tardo pomeriggio domani di notte in mattinata cielo in prezzo in prevalenza nuvoloso coperto con temperature minime in aumento in pianura e nelle valli Borino sulla costa non si può escludere qualche pioggia molto debole è tutto per questa edizione del nostro telegiornale ci rivediamo alle 19.30 grazie per l'attenzione e buon pomeriggio e buon pomeriggio e buon pomeriggio comunque come per l'attenzione